Sono Benedetta Bellucci della casa editrice Punti di Vista di Rieti, è la seconda volta che partecipiamo alla fiera della microeditoria di qualità di Chiari, nel 2013 proprio l'anno in cui siamo nate e quest'anno e da allora abbiamo fatto grandi passi avanti, abbiamo diverse collane dedicate a tutti i bambini ma soprattutto con uno sguardo molto attento ai bambini con disabilità sensoriali e cognitive e quindi realizziamo dei libri non soltanto in carta ma anche libri in stoffa, libri tattili, libri in braille e quella che vi voglio presentare oggi è la collana libri speciali e libri senza parole realizzati appunto in feltro in cui si dà la possibilità al bambino di creare delle storie attraverso la fantasia e l'immaginazione e quindi attraverso degli inserti tattili e in questo caso sono i mestieri ma possono anche essere, come nel caso di Oggi Vato, le attività in cui sempre grazie all'immaginazione alla fantasia si possono fare molte attività, sempre della stessa collana che fa parte Oggi Vi Metto dove invece si possono creare tanti outfit sia per bambino che per bambina e poi l'ultimo arrivato, appena nato proprio, giochiamo con le stagioni, in questo caso parliamo sempre degli inserti tattili ma ad applicare su dei banner con cui si può giocare e sono indistruttibili perché chiaramente plastificati. Grazie. 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 Grazie.